ciao bella gente benvenuti al mio canale oggi devo fare le sopracciglia non so se riuscite a vederli ma da più di un mese che non li faccio quindi ho detto ma si dai li facciamo insieme perché ho visto questa tecnica che è molto interessante e voglio vedere se funziona davvero se la facciamo a casa e quindi sapendo che avevo questa cuffia qua ho detto per vostro aspetto per non spaventarvi ho deciso di toglierla ma ci metto quasi quasi me la metto guarda ero così comoda perché ho messo un po di maschera nel viso infatti c'è ancora qua di argilla di herbalife che mi piace molto a caldo vado a mettere la maschera per il contorno occhi di sciseido che ho il contorno occhio abbastanza scuro perché non dormo niente torno dal lavoro molto tardi vado a dormire tardissimo almeno alle due arrivo a letto e mi sveglio al mattina alle sette e mezza c'ho la sveglia perché devo portare la signorina fuori a farla passeggiata perché sennò dopo è veramente troppo tardi per lei comincia a respirare male quindi mi fa pena preferisco non dormire io ma lei ma lei sta bene adesso andiamo a seguire il video prima di tutto prima di tutto dobbiamo abbiamo bisogno di filo così il correttore di l'assence che troppo chiaro nel video ha usato un illuminatore in crema non è così una cosa molto semplice ok ok ho fatto così vediamo dal naso ok dal naso mezzo dell'occhio ok adesso ok vedete che sono precisi ok ok abbiamo fatto prima ok leghiamo gli altri due punti che avevo fatto prima e di qua ok vedete come sono allineati la linea dell'occhio qua e l'altra linea dell'occhio qua adesso andiamo ok che abbiamo qui e qui ok e l'altra che abbiamo qui e qui ok si capisce qualcosa? seguiamo la linea oh oh l'importante ok guardate seguendo seguendo la linea per niente guardate qua è un casino ma qua è perfetto andiamo a fare l'altra seguendo la linea ok solo che io questa qua ce l'ho più corta che questo qua quindi cerco di... perché la mia dolcissima sorella grande mi aveva rasato via un sopracciglio quando ero piccola e quindi niente vivo con la croce che ho un sopracciglio più piccolo dell'altro uno più lungo uno più corto risultato risultato dell'essence mi trovo veramente bene non mi cola e che numero è questo? la più scura andiamo a prepararli solo per farvi vedere come vi faccio io ok vi do la lineetta fine sotto solo sotto la lineetta sotto e quadro e mi piace dare l'effetto quadrato qua perché a me non mi piacciono che sono rotondi si vede il vuoto guardate ok belli e quanto ci ho messo 5 minuti a farli 5 minuti bella gente se vi piace questo video se vi piacciono questa cosa qua di paragonare con altre persone oppure fare una recensione delle cose che vedo in giro se vi piace mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità alla prossima ciao a tutti niente torno anche se queste cose qua li uso poco ma torno alla mia cuffia perché mi sento così comoda poi fa caldo la mia adorata cuffia che mi fa star mi fa star bene mi sento così fresca comunque questa cuffia l'ho comprata su Amazon mi trovo da Dio vi lascio il link sotto ciao ciao